Raga, è un po' tempo che non vi facevo vedere la mia stanzetta Dai, che da questa postazione, fra poco raga, registreremo, continueremo a registrare la serie di Red Dead Redemption che incominciai un anno fa Dai dai, veramente ragazzi non sto scherzando eh, mi sto impegnando parecchio sul gioco Quindi ho già registrato due clip sulla frontiera e li porterò domani barra sabato del primo Perché non so se domani lavoro, come due giorni starò E niente ragazzi dai, qui uso la PS camera come microfono Ormai giusto per fare le cose meglio, ho le auricolari e le cuffie buone e grosse Dai ragazzi, qui c'ho la fibra attaccata col capo, l'Anna, la Play Il capo Jack per la musica, il cassone di mia madre Raga, dai, stay tuned Mi raccomando, seguitemi, lasciate like su Instagram e dal canale Dai 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 Grazie a tutti